Sono davvero molto contento perché io sono un grande appassionato di stand-up comedy, mi piace tantissimo, non riesco mai a guardarne troppe perché ho poco tempo e gli spettacoli di solito durano un bel po', però mi mangio ore di clip di YouTube, di magari estratti di spettacoli e uno degli spettacoli che ho visto più volte è stata la tua esibizione, il tuo provino a Italia Sgottale. Bene, come hanno fatto la metà degli italiani. Ma infatti volevo dirti che quando dicevo in giro, oh ma sapete che al podcast viene Mirko? Tutti mi dicevano, che cazzo è? Chi è Mirko? Poi mostravo magari un frame dello spettacolo, ah no, grande, grande, grande. Tu devi sapere che ovviamente io non sono, non mi reputo VIP perché VIP secondo me lo sai nel momento in cui intanto fai di più e quando col tuo nome la gente ti identifica. Se vai a dire Mirko o Darar sono proprio diciamo quelli di nicchia che mi conoscono per nome e cognome. La gente mi conosce per il viso ed è capita spessissimo che mi fermino per strada e mi fanno No, ma tu sei quello, non gli viene il nome, sei quello che ha fatto X Factor. Dico sì, non sapevo di saper cantare, evidentemente ho fatto anche quello, però funziona così. La mia faccia l'hanno identificata, sì. Perché poi il tuo spettacolo in realtà secondo me è spopolato molto più su Facebook che in tv. Cioè ovviamente nel momento in cui è andato in onda c'è stato il boom eccetera. Però poi c'è stato un periodo in cui il tuo spettacolo è diventato virale su Facebook con le classiche scritte sotto e sopra coming out con il sorriso e poi è esploso molto e è diventato virale lì. E infatti anche i miei genitori ti conoscevano, è proprio una roba pazzesca. Guarda, ma io mi ricordo dopo quella prima messa in onda perché poi io a Italia's Got Talent sono arrivato in finale, quindi ho fatto tre apparizioni. Ricordo per me che arrivavo dalla Liguria in cui addestravo cani, cioè capito, tutto altro mondo. L'effetto che mi faceva vedere la mia faccia su tutti i social, cioè almeno su Facebook, in ogni bacheca, cioè continuavo a scorrere e c'era solo la mia faccia. Andavo su YouTube e tra i video consigliati c'era il mio monologo. Il video in due mesi ha raggiunto 7 milioni di visualizzazioni, madonna. E poi quando dici Mirko Dallar, che cazzo? Ma che questo è un po' la storia dei fenomeni sul web, no? Che magari una cosa diventa estremamente virale per un periodo e poi scompare nel nulla. È normale, oggigiorno è normale. La signora del pellicciotto, tu te la ricordi la signora del pellicciotto? Oddio, se non è una cosa porno o no? No, è quella signora che è andata tipo in un negozio di vestiario che doveva restituire un pellicciotto. Ah sì, ma non glielo volevano dare ed è svenuta. Ah sì sì sì, è andata anche da Barbara D'Urso, cioè proprio una roba... Eh beh, poi è da Barbara D'Urso insomma. Grandi livelli, vuol dire che ce l'hai fatta. Sì sì sì, assolutamente, ti fai il caffè con 8 kg di zucchero e va da Barbara D'Urso. Esatto, è anche quello un altro caso. Però il tuo spettacolo a Italia's Got Talent l'ho trovato molto interessante perché in pochissimo tempo, alla fine sono 5 minuti mi sembra di... Sì, 4. 4 minuti, hai tirato dentro qualsiasi argomento... possibile e immaginabile, perché ovviamente hai messo l'omosessualità, ok? Il razzismo, i luoghi comuni dell'Italia, quindi un po' la donna del sud, la mafia... Cioè hai tirato dentro una quantità gigantesca di argomenti e volevo chiederti come mai andare a Italia's Got Talent parlando di questo. Ma allora, intanto io a Italia's Got Talent ci sono arrivato per puro caso, nel senso che non sono stato io a propormi ai provini, non pensavo minimamente che far ridere la gente fosse un talento. Io all'epoca facevo cabaret per hobby, quindi durante il giorno addestravo cani, alla sera mi trasformavo, entravo nella cabina telefonica come Superman e diventavo l'uomo con i tacchi e facevo cabaret nei locali. All'epoca seguivo un laboratorio di cabaret, si chiama così la scuola, diciamo l'esercitazione in cui provi dal vivo pezzi nuovi e quel giorno mi ricordo ero arrivato dal mio capo comico che si chiama Daniele Raco che ha fatto anche tante puntate di Zelica e quindi poi è conosciuto e gli ho detto, la sera stessa che dovevo mettere in scena, portare in scena quel monologo, gli ho detto guarda ho scritto una cosa nuova, te la faccio vedere ma fa cagare. Poi gliel'ho fatta vedere, ma tu sei pazzo assolutamente, questa cosa la devi fare ed è stato lui in realtà interessarsi e mettersi in contatto con gli autori di Italia's Got Talent. Quindi ti dico... Ti hanno chiamato loro quindi? Mi hanno chiamato loro, mi hanno detto ti interesserebbe partecipare? Io ho detto sì, ingenuamente dicevo, ah beh così magari faccio qualche serata di più, invece se è scoppiato il pandemonio. Però è stato un monologo fatto a istinto, nel senso io nei miei monologhi non faccio molti ragionamenti, proprio due o tre regoline base per creare un prodotto che mi soddisfi, però io voglio proprio far ridere, far ridere e allo stesso tempo, ora che ci sono dentro, portare alla riflessione, ma nella maniera più leggera possibile. E qual è il modo migliore se non quella di prendere i cliché? E all'interno dello stesso monologo anche sfatarli i cliché. Io spesso nei miei monologhi metto in mostra un cliché, faccio finta che per me valga quel cliché, per poi smentirlo subito dopo. Ed è una cosa che serve ad attirare l'attenzione, a incuriosire l'ascoltatore, capire di cosa stai parlando, e soprattutto appunto far riflettere. Dici, ah, è vero, effettivamente non tutti i gay sono così. E quindi, però in realtà è tutto istintivo, quello che hai visto di Italia Sgottale. Beh, a parte che si vede che è molto... C'è proprio della naturalezza, no? A volte ci sono quei comici che magari fanno anche ridere, però sono super impostati, proprio che sanno che al minuto otto dovranno dire quella parola, perché altrimenti non funzionerà il pezzo. Invece tu eri molto sciolto, eri anche super a tuo agio, tra l'altro, sul palco. Tu, prima di andare a Italia Sgottalent, hai detto che facevi già un po' di... Sì, facevo serate nei localini, dove magari c'erano 20 persone, immagino al ristorante. Spesso venivo pagato con una cena, non è che avessi chissà che pubblico a seguirmi. Quando sono andato ad Italia Sgottalent, bisogna avere una vena sicuramente egocentrica, per fare una cosa del genere. E io sono, penso, al momento opportuno, molto egocentrico. Non sono uno di quelli che vuole l'attenzione sempre e comunque. Addirittura quando sono alla tavolata di amici, non sono io, paradossalmente, che tengo banco. Io sono molto studioso. Sto più in disparte e studio i personaggi che mi fanno ridere, per poi riportarli in scena. Ma poi quando sono sul palco, io proprio in quel momento sto facendo l'amore col palco, col pubblico. Quindi io godo ad avere l'attenzione della gente. E lì avere 1500 persone mi gasava da morire al punto di poter essere tranquillo. Dopo quell'esperienza, se andavo a fare serate dove c'era poco pubblico, per carità, non è che dico che non accettassi, ma un po' mi dispiaceva, perché a me piace quando tutta quella marea di gente forma un pubblico grande, enorme. Sembra un essere che prende vita. Certo, certo. Super bello. Ma ho sempre avuto un dubbio. Come fai a capire di essere portato per fare stand-up? Cioè immagino magari un ragazzo che suona la chitarra dice, ah, magari la musica può essere il mio percorso. Un altro ragazzo che pittura molto bene per hobby, magari potrei fare l'architetto, il pittore. Ma la stand-up, cioè far ridere le persone, come funziona? Allora, intanto io non sapevo di fare stand-up. Tanto per cominciare, cioè me l'hanno detto che io stavo facendo stand-up. O anche, avevo anche una scarsa cultura in ambito comico, per cui a me piaceva far ridere senza interessarmi molto degli altri, ma in realtà anche sbagliando, perché poi dagli altri si impara. Io, sin da piccolino, amavo far ridere gli altri, ma al punto che salivo sulla sedia a scuola per far la battuta alla maestra, mi prendevo la nota, a casa mi prendevo le cazziate, ma avevo fatto ridere i miei compagni di classe. E questa cosa è andata avanti sempre. Alle superiori organizzavo spettacoli nelle ore buche in cui intrattenevo i miei compagni di classe. Un po' un esaurito della comicità, cioè un nerd della comicità. E la cosa che, a quell'età lì, pensiamo per esempio al periodo delle superiori, quando sei così tanto preso da un qualche cosa, è molto facile venire etichettato come quello strano. Sì, sì, sì. E a me questa cosa non è mai successa. Cioè, nonostante facessi delle cose strane, vestirmi da bidella e tirare su uno sketch in cinque secondi, i miei compagni comunque si divertivano. Non sono mai stato quello troppo strano. Sono stato quello che faceva ridere. E quindi, quando poi è finita la scuola, ho iniziato a fare l'animatore turistico durante l'estate, vedevo che la cosa che mi interessava di più erano gli spettacoli serali, perché si facevano spettacoli comici. E poi il mio sogno, io da bambino guardavo La Sei L'Ultima, che non so se tu conosci la tua giovane età. Ero piccolo, però me lo ricordo. E poi il mio compito era ripetere le barzellette a mio padre, per farlo ridere. Quindi tutto è nato così. Poi guardavo Zelig e sognavo, mi piaceva. Più guardavo questi comici che mi facevano ridere, più sognavo. Un giorno sarei stato anch'io sul palco con Claudio Bisio. Però appunto, non sapevo di fare stand-up. Per me ero un monologhista. Poi comunque, oggi dire stand-up comedy, a mio avviso, e avviso anche di qualche collega, è un po' un voler fare il figo. Cioè alla fine lo stand-up comedian non è altro che un monologhista, che un cabarettista. Poi va bene, lo stile è quello del microfono, one man show, c'è solo lui. Però sempre cabaret. Io volevo fare il cabarettista, il comico. E quello è. Wow. Ma tu sei andato a Italia's Got Talent. Sei quindi. Com'è cambiata la tua vita quando sei uscito da quel programma? Cioè effettivamente è arrivato poi il boom di successo? C'è stato un boom con un rinculo della Madonna. Cioè, nel senso che, tra le tante cose successe, il giorno dopo la messa in scena di quel mio monologo, mi ha chiamato Pietro Valsecchi in persona, che è il produttore numero uno in Italia, che ha fatto fare tutti i film a Checco Zalone, per intenderci. Mi ha detto, uè ciao, t'ho visto televisione, mi sei piaciuto, domani mi viene a Roma, che parliamo, voglio fare un film con te. Porca. Io pensavo di prendere visibilità per fare qualche serata in più nei locali in Liguria, e invece mi si prospettava la possibilità di fare un film. Cioè, sogno che avevo chiuso nel cassetto a chiave già da quando ero ragazzino. Tutti mi dicevano, ma sei scemo, se sogni di fare l'attore nella vita, per di più comico. e quindi vado da lui, firmo questo contratto da 300 mila euro, esco con un anticipo da 10 mila euro, la mia vita stava cambiando, per di più mi avevano chiamato da Zelig, da Colorado, mi volevano da tutte le parti, avevo già degli appuntamenti in Rai, sono andato in Rai a fare delle puntate anche in Rai, con Sky, quindi diciamo era necessario lasciare la Liguria per poter essere nella città della comicità che è Milano, e soprattutto nei confronti del film dover andare avanti e indietro da Roma, a Roma partendo dalla Liguria sarebbe stato un problema, perché la Liguria è molto mal collegata, quindi Milano era la prospettiva migliore, sono arrivato a Milano ed è sparito tutto in una nuvola, in una bolla di sapone, quindi ho iniziato a fare per la prima volta in vita mia, il colsenterista, il cameriere, il barista, tutto meno che il comico, serate d'estate questo sì, perché comunque appunto la gente si ricorda di me, quindi ogni estate escono fuori serate che vado a fare in teatro, nelle piazze, nei locali, eccetera, però la televisione che mi ha così tanto lusingato, sublimato, mi ha detto sai, il pubblico italiano non è pronto, però è un po' incoerente, alla fine con Italia Sgottane ti hai avuto un boom della Madonna? Sì, ho avuto un boom della Madonna, ma partendo dal presupposto che lì prendevo per il culo me e la mia famiglia, quindi tutto a posto, sta prendendo in giro l'extracomunitario, lui che è ricchione, tutto quanto. Se poi inizio a fare tutti gli altri miei pezzi, considera che io ho due spettacoli da un'ora e mezza, adesso sto scrivendo il terzo, magari dove c'è più satira, più denuncia sociale, e che comunque fanno ridere, perché quando li faccio nelle piazze non è che dici due palle, questo, la gente mi ascolta per un'ora e mezza e dice è volata, però la televisione dice abbiamo paura di perdere il pubblico, e quindi dico ma voi che avete la possibilità di educare, mi dite una roba del genere, che poi non è che raccontisce atti porno, cioè è una roba comunque simpatica, dove faccio sempre dell'autoironia, dove per primo mi prendo in giro, proprio per poter avere anche adito di prendere in giro gli altri, ma meglio mettere Barbara D'Urso. È molto triste questa cosa, è proprio triste. Beh è stata dura, è stato un duro colpo, cioè tra tanti colpi che uno può prendere nella vita, questo è stato un colpo abbastanza difficile da digerire. È come se ti avessero detto, guarda tu hai talento, però non qui, cioè non puoi farlo a casa nostra. Sì sì sì. In Italia c'è praticamente solo quella casa dove poter andare a lavorare. Esattamente. Per poter emergere sarei dovuto andare ad un corso di inglese, imparare molto bene l'inglese, andare in America, riuscire a farmi conoscere, fare qualcosa tipo Will & Grace, allora poi sì che in Italia l'avrebbero accettato, perché Will & Grace alle ore 16 su Italia 1 è sempre stato un cult da anni, ma vabbè non siamo venuti qui per lamentarci. Però è sempre divertente, posso dire, lamentarsi è sempre divertente. Sì ma almeno uno sky, sto sudando. Tu comunque sei andato tipo a Comedy Central? No no no, adesso cioè così stiamo dando una spiegazione un po' solo negativa della cosa. Ci sono state anche le soddisfazioni. Alla fine il sogno di stare sul palco con Claudio Bisio si è avverato, non a Zelig, ma abbiamo fatto tutta una stagione di Saturday Night Live con Claudio Bisio, e altri comici che amo tantissimo, tipo Marta Zoboli, Alessandro Betti, che si vedono spesso a Zeligo con Ale Franz, eccetera. Poi ho fatto delle puntate su Ray 2, ho fatto una puntata di Comedy Central, che tra l'altro loro mi hanno chiamato, mi hanno detto vieni da noi, avremo piacere che tu facessi il monologo di Italia's Got Talent. Ancora? Ho detto, con l'amore che voglio, la mia famiglia è quel pezzo a cui sono affezionato, ma ho anche tante altre cose da dire. Anche perché comunque le avevano già viste tutti. Sì, 7 milioni di visualizzazioni, basta, la gente non ne può più. Perché mi dovete far odiare a tutti i costi? Gli ho detto, no, senti, il monologo di Italia's Got Talent, no, vengo, ma faccio un'altra roba. No, dai, allora, facciamo che fai quello di Italia's Got Talent, è un altro pezzo a tua scelta. Vabbè, dico, il compromesso è sempre un buon punto di vista. Arrivo, faccio il mio pezzo, più un altro pezzo, e in onda mandano solo il pezzo di Italia's Got Talent. E lì ti viene voglia di andare in studio e spaccare tutto. Aspetta che faccio un po' le pulizie di primavera qua. E disintegro lo studio. La presa per il culo è qualcosa veramente, per quanto io possa essere gay, diciamo che la presa per il culo, solo su richiesta. Certo. Sennò diventa un po' brutto. Però, io credo che comunque, essendo nel 2020, magari non in questo anno specifico, che è un po' una merda, però in questo tempo, secondo me, una persona comunque può un po' riscattarsi con altri medici. Penso ad internet, che adesso hai cominciato a fare dei video comici. Sì. Dove fai comunque i tuoi monologhi e li porti avanti. Secondo te, una piattaforma come internet potrà un giorno arrivare al livello della televisione? Cioè potrà essere un concorrente forte? Beh, probabilmente lo è già, anche perché se guardiamo programmi storici, come Striscia la notizia o altro, che ormai prendono cose da internet, quindi direi che già ci siamo a quel punto lì, è che di nuovo siamo in un mare enorme di pesci, dove ci sono tanti pesci che sanno fare la tua stessa cosa, magari anche meglio, magari hanno più capacità. Cioè, internet sembra una stupidaggine, mi metto su YouTube e pubblico dei video, ma se vuoi emergere, c'è tutta una storia, devi star lì a studiare le parole chiave, il tag, l'ora in cui pubblichi, il titolo deve essere ripreso, poi mi raccomando, non devi andare in contrasto, e dicere, la madonna santa, allora è meglio la televisione, che è più semplice. Però sì, è sicuramente un ottimo canale, bisogna studiare, perché quando prendono per il culo gli YouTuber, in realtà, se ci riescono, non è che siano degli stupidini qualunque, vuol dire che sanno il fatto loro. Tu a fare monologhi dal palco a internet, hai visto una grande differenza? Come messa in scena? Allora, io trovo la differenza per me, cioè io senza il pubblico sto male, quindi per quanto mi metta lì a fare delle cose, che non chiamo neanche monologhi, li chiamo più pillole, sì, io mi ci metto, lo faccio, perché fortunatamente ho ancora tanta richiesta dai miei phone, che mi dicono, che cazzo, dai segni di vita, allora faccio dei pezzi, però comunque non è per me la stessa cosa che essere dal vivo, perché poi io interagisco col pubblico, prendo in giro, anche le persone tra il pubblico ci scherzo, diventa un botta e risposta, e a me quella cosa manca. Probabilmente poteva succedere lo stesso anche in televisione, perché in televisione non ti permettono di fare questo, per i tempi televisivi, però per me, per come sono io, per com'è la mia comicità, a me internet pesa, e infatti spesso ricevo la mentele del fatto che faccia troppo poco dai miei seguaci. Ok, beh, è comprensibile, però è anche vero che se ti tagliano le gambe, uno vuole cercare un po' di riemergere, quello secondo me può essere un mezzo comunque molto forte, perché comunque se adesso dovessi riprendere gran parte del pubblico su internet, secondo me sarebbe anche stupido se poi la televisione effettivamente non ti chiama. Sì, ecco, a quel punto se tu riesci ad essere forte sul web, allora dopo hai quasi un lascia passare in televisione, è che io ho fatto un grosso errore, perché prima di Italia's Got Talent io non avevo social, io sono proprio, immagina il nonno di Heidi che sta sul cucuzzolo della montagna e non vuole avere a che fare con niente, con nessuno, solo circondato da cani e lavoravo con i cani. Arrivo ad Italia's Got Talent e che non ho pensato minimamente al potenziale di questo programma, o comunque di quello che stavo andando a fare. Quando sono andato in tv, quando hanno pubblicato la mia audition, io non avevo nulla, avevo solo il mio profilo personale di Facebook, non avevo Instagram, quindi io ho tutta una fetta di acquirenti, di fan, l'ho persa, perché quando mi hanno cercato non mi hanno trovato, arrivederci, grazie. Chissà oggi come sarebbe andata se io avessi già avuto i social che sarebbero scoppiati. Su YouTube il mio canale conta 15.000 iscritti, però è troppo poco per poter andare in televisione e dire guarda che alla gente piaccio, sì, a 15.000 sti cazzi. Certo. A conti fatti tu torneresti, cioè rifaresti con l'esperienza Italia's Got Talent? Sì, 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 a conti fatti quello che non rifarei è muovermi come mi sono mosso dopo, perché ero un esperto, non conoscevo, non avevo una guida, nessuno che mi dicesse cosa dovevo fare, banalmente anche i prezzi che ho fatto alle serate poteva essere semplicemente un'occasione per mettere da parte un gruzzoletto e, che ne so, comprarsi la macchina nuova. Invece manco quello, perché io dall'alto della mia umiltà dicevo, beh, se prima chiedevo 200 euro, dopo Italia's Got Talent, 7 milioni di visualizzazioni, posso chiedere anche 300. Ah, ok. Quindi, cioè, non sono riuscito manco a sfruttare quella parte positiva. Ecco, cambierei il dopo Italia's Got Talent, quello sì. Quindi se tu adesso potessi parlare col Mirko di qualche anno fa, gli diresti, preparati bene prima e poi buttati. Gli direi, spara alto, fatti i social, tiratela un po', basta con sta umiltà del cazzo che ci hai rotto il coglione, e basta, e allora poi saprei come andare. Ero troppo riverente, troppo... Ma questa è una cosa che torna molto spesso, perché abbiamo parlato anche con altri ragazzi che hanno fatto X Factor, ad esempio, quindi lì si parla di musica, e tutti ci hanno detto che molte persone partecipano ai talent convinti che tu vai lì, che magari hai un talento, però non sei nessuno e da lì poi ti puoi creare. Quando invece, secondo molti altri, è molto più utile essere già un personaggio forte prima, quindi già formato, e poi permettere al talent di lanciarti sul mercato. Bah, io penso che nell'uno e nell'altro possono avere regole fisse in merito, perché io penso se sei già qualcuno sui web, allora è più facile che tu possa emergere se fai qualcosa in cui riesci a distinguerti in un programma. Se sei uno dei nove concorrenti, probabilmente stavi già facendo un buon lavoro prima se avevi tutti questi follower, cioè non penso che quello ti aiuti più di tanto. Puoi acquisire altri follower, ma se piaci, piaci, se non piaci, rimani lì a quelli della televisione che hanno una mentalità a loro. Diversamente è Vado Italia's Got Talent e non sono nessuno, ma predispongo tutto per far sì che poi la gente mi possa conoscere e seguirmi e lì si vede la differenza perché se da zero vai a un milione in poco tempo, quelli della TV si fanno delle domande. Secondo te cosa rende un comico bravo oggi? Oddio! E non vale dire fare ridere perché è ok, ok. Fino lì tutto torna. Cosa rende bravo un comico? intanto secondo me la capacità di creare empatia col pubblico sia che il pubblico sia presente sia che sia lontano a casa e ti guardano attraverso un obiettivo. Io vedo tanti comici che in realtà arrivano da un percorso attoriale quindi prima di essere comici sono attori e l'attore ha un'impostazione completamente diversa dal comico e quando si mette a fare il comico se non ha elaborato questo concetto lo noti che c'è quell'impostazione quel distacco dal pubblico che a me personalmente fa passare la voglia di ascoltarlo l'originalità perché l'originalità o meglio il saper sfruttare il proprio punto di vista quello ti rende originale perché ormai tutti gli argomenti sono stati sdoganati persino l'omosessualità persino il razzismo c'è stato il comico nero anche dalle Sgot Talent come faccio io comico emergere? Devi far venire fuori quanto più possibile il tuo punto di vista più io capisco come ragiona la tua testolina malata più mi fai ridere più mi affeziona a te e poi la capacità o meno di riuscire a questo mio personalissimo gusto eludere la volgarità io nei miei pezzi un po' di parolacce le dico nonostante io sia sempre stato contrario a una comicità volgare ma c'è un senso in tutto questo io le parolacce le dico ma le dico al momento giusto le dico esattamente dove anche il pubblico avrebbe voglia di dire quella determinata parolacce in quel momento dopo quello che ho raccontato e soprattutto senza strafare cioè non è che come vedo fare a tanti colleghi ad ogni frase che dico su una frase di dieci parole nove sono cazzo non so se si potesse dire ecco insomma un po' di misura un po' di qualità in quello ci vuole tutte queste cose fanno sì che tu possa essere un bravo comico ok ma tiro fuori un argomento un po' spinoso parlando di volgarità eccetera già sanguino già sanguino secondo te è vero che oggi non si può più scherzare su nulla tiro fuori tipo la black il black humor allora cosa ne pensi che viviamo in una società un po' ipocrita sì per fortuna io penso che sia meno della metà questa società ipocrita se no Bonolis non sarebbe dov'è ed uno dice cosa c'entra Bonolis Bonolis oltre che un presentatore a mio avviso è un abilissimo comico e soprattutto lui fa molta black humor la signora grassa gli dice che è grassa al disabile gli dice mo girati dopo te sposto te faccio andare più là e viene ne criticato dai perbenisti che dicono ma tu prendi in giro le persone intanto i suoi programmi sono pieni pieni di gente che di loro spontanea volontà signori della corte vogliono andare da Paolo Bonolis a farsi prendere per il culo e lui cosa fa altro non fa che togliere quella patina di perbenismo di ipocrisia tanto la signora che è grassa lo sa se tu ci scherzi insieme a lei non stai ridendo di lei stai ridendo con lei per cui secondo me ci siamo è che siamo questa è una roba trita e ritrita in un popolo dove il cattolicesimo la fa da sovrano che poi non tutti i cattolici sono bigotti mentalità chiusa omofobi o quant'altro per carità però ci sono sempre quelli che dicono no che esempio diamo si preoccupano più dell'immagine che arriva al di fuori poi del contesto quando in realtà ormai voglio dire il futuro è in mano i giovani e i giovani sono molto più svegli di quelli che erano giovani alla loro età all'epoca hanno molto più mezzi di comunicazione molti mezzi di confronto cioè internet è qualcosa che se avessero avuto i nostri genitori i nostri nonni all'epoca probabilmente avrebbe anche potuto cambiare il corso della storia per cui basta con queste rotture di palle che non si può scherzare di niente non si può ridere di niente perché io sono sono super d'accordo io credo che i giovani abbiano una grandissima autoironia cioè fortissimo io vedo il mio gruppo di amici in università siamo circa una decina e siamo un gruppo fottutamente diverso cioè ci sono gay etero bisessuali bianchi neri c'è proprio una roba immensa e tutti ci prendiamo per il culo la vicenda su il nostro fatto di essere parte di una minoranza certo ed è una cosa bellissima perché quando arrivi a quel punto dove hai il permesso di scherzare con l'altra persona della sua minoranza è bello perché poi non esiste neanche più l'offesa chiaro ma io credo che adesso purtroppo mi tocca dire credo che voi giovani perché io ormai sarò un po' più grande vabbè oddio non è che abbiamo così tanti anni di differenza vabbè vabbè intanto io ne ho 31 tu ne hai 24 va a cagare allora penso qui faccio un attimo quello serio quello pro il comico profondo però sono però ci credo veramente in quello che sto per dire la grande diversità tra voi di oggi e i voi di ieri è che quelli di ieri erano troppo concentrati sul fatto che qualcuno potesse risultare diverso e quindi pericoloso sei nero sei gay sei quello che vuoi sei di un'altra religione e quindi si creavano poi queste diatribe queste situazioni brutte voi giovani di oggi avete capito una cosa sacrosanta che è la base di tutto siamo tutti diversi e tutti uguali allo stesso tempo ma anni fa mancava questo secondo concetto questa c'era mancava un pezzettino voi fortunatamente grazie anche a tutta la comunicazione che possiamo avere l'avete capita e quindi nessuno si offende più se al nero gli dici oh c'è mangiare il cioccolato che ti mordi il dito c'è capito all'epoca i perbenisti allora sei razzista lo sa che è nero non è che non si vede è anche vero che però molte persone fanno insulti razzisti poi parandosi il culo dicendo è black humor stavo scherzando beh intanto sicuramente sai il paraverbale ha una sua scienza un suo studio il modo con cui si dicono le cose fa tutto se io ti dico oh c'è John che se ti mordi che se mangi il cioccolato ti mordi il dito te lo sto dicendo in un modo e si capisce la mia intenzione io sono pieno di amici che mi chiamano ricchione ma non mi offenderei mai allo stesso tempo se uno che passa per strada non mi conosce vede che bacio il mio ragazzo mi dà del ricchione probabilmente lo smonto come un lego eppure la parola è la stessa quindi bisogna contestualizzare bisogna sicuramente essere anche persone risolte autosoddisfatte conoscenti del proprio io lì poi uno non è che può fare i salti mortali se ti faccio la battuta e tu ti offendi ma si capiva chiaramente che io stavo solo scherzando vai dallo psicologo perché ne hai bisogno e io ci dovrei andare per molti motivi tra l'altro mi laureo quindi data me ne due allora ne hai bisogno ma chi non ne ha bisogno e prima dicevi che molti stand up comedy comedian arrivano dal teatro no no molti comici molti comici arrivano dal teatro e io una cosa che ho sempre notato in Italia è che cioè i comici sono un po' un'unione di tante cose cioè io riesco a immaginare pochi comici italiani che fanno i comici punto tipo non so prendo come esempio Checco Zalone sì ok che lui ok è partito da Zelig quindi ha fatto il comico poi ha fatto le canzoni poi ha fatto il film sì cioè non lo so in Italia la vedo molto come un non puoi fare il comico punto il comico deve essere parte di una cosa più grossa mentre invece magari in America cioè se ti dicessi dimmi dei nomi di di comici me ne verrebbero in mente molti più americani che tu dici vivono solo di quello che vivono solo di quello ma tu parli del comico che fa stand up comedy sì esatto ok nel caso di per esempio Checco Zalone non è un inserire lui in tanti altri contesti così tutto fa brodo è lui che è tanti altri contesti cioè Checco Zalone non fa altro che essere se stesso le canzoni le crea lui è sempre fonte di tutto dello stesso sacco i suoi monologhi comici li crea lui i suoi giochi i film li scrive lui quindi capito che in realtà lui non è un comico che viene riadattato e sistemato pur di fargli fare qualcosa è lui che ha una mente criminale beato lui che ce l'ha questa mente criminale qua però in Italia secondo te si può vivere facendo il comico in Italia facendo il comico dal momento in cui è morto Zelig penso sia più difficile esiste ancora colorado che è un genere di comicità che a me non piace ma ci tengo a ribadire che quando mi hanno detto ti chiamiamo colorado dice sei l'unica scelta pur di lavorare ci vengo è comunque un bel programma esatto non lo guardo da un sacco però se sei un comico in voga come può essere Pucci Pintus l'altro giorno guardavo lo scherzo le iene che hanno fatto Pintus si è comprato la casa a Ibiza dove so che sia eccetera quindi se sei uno di quelli in voga puoi vivere secondo me con un po' di lungimiranza nel senso metti anche da parte che purtroppo il comico sulla cresta dell'onda penso che non ci stia mai troppo a lungo se no diversamente per esempio a Colorado io ho saputo che ci sono comici che pagano loro per andare perché la vedono un'occasione di vetrina di così mi vedono e faccio serate quindi si sta un po' ribaltando veramente al contrario il mondo della comicità ci sono regole nel mondo della comicità che ammazzano la comicità stessa per esempio una regola di Zeli che è un programma che ho sempre amato è che il comico non può fare monologhi più lunghi di tre minuti se sei uno bravo cinque minuti se sei uno figo che piace tanto vedi Brignano anche un quarto d'ora ma il tempo comico è alla base di tutto se tu mi togli tempo come faccio ad avere tempi comici mi stai praticamente dicendo che io devo lavorare solo sulle battute quindi non sono un comico sono un battutaro divento un distributore automatico di battute ma allora così come faccio ad arrivare al cuore della gente io quando ho iniziato a fare i miei monologhi mi facevo un cruccio e dicevo Daniele Racco Dani ma io non riesco a stare sotto il quarto d'ora e dieci minuti mi fa questo è il tuo tempo tu scrivi continua a fare pezzi di questa durata perché tu diversamente non saresti tu però in televisione hai capito che se sei nessuno chi ti dà quindici minuti per poter fare il tuo pezzo poi magari spacchi anche ma non hanno voglia di azzardare non hanno voglia di tentare cioè diventa più carne da macello via uno avanti l'altro infatti ma secondo te questa paura di non volere azzardare è solo perché si ha paura del pubblico non so cosa si ha paura di perdere il pubblico si ha paura di scontentare il pubblico e chi la fa da padrone è il dio denaro per cui capito meno pubblico meno soldi meno share meno pubblicità e quant'altro però io sono molto critico verso la tv italiana perché la odio siamo in due ormai la sto odiando un salutone alla tv italiana che ci segue sempre salutiamo Barbara D'Urso con il cuore che ci guarda io ho sempre detto ma io vedo la tv italiana come veramente stagnante anche programmi come ciao darwin che ciao darwin mi piace molto mi fa molto ridere però io sono cresciuto con ciao darwin cioè quando sono nato c'era già secondo me ciao darwin sì il problema della tv italiana è che quando c'è quella volta che hanno il guizzo di genio poi quel guizzo di genio rimane a vita anche il grande fratello ma non si fa più in nessun stato del mondo il grande fratello si fa solo in Italia tra l'altro tipo grande fratello VIP gente che io non conosco minimamente esatto esatto VIP ci fidiamo ci fidiamo se lo dite voi VIP sulla fiducia esatto e proprio dico ma ci basterebbe così poco secondo me cioè togli dei programmi sperimenti magari prendi dei format che negli altri stati vanno bene eh caro meoli perché da una parte il problema è che a livello statistico demografico la popolazione italiana è una popolazione di vecchi ma con affetto con i vecchi cioè io amo gli anziani sulla base di questo chi fa la tv italiana ragiona in termini vecchi ma in termini vecchi con cui gli anziani stessi non ragionano ti faccio un esempio a me in televisione non mi hanno fatto apparire più di tanto la motivazione è stata abbiamo paura di perdere il pubblico l'Italia non è pronta perché sotto testo perché il pubblico nostro italiano è per lo più anziano ma quando poi io faccio le serate dal vivo è pieno di anziani che mi vengono a vedere una volta una coppia marito e moglie mi ha anche portato una rosa un mazzo di rose bianche che ho detto sì sono gay ma fino a un certo punto però capito e quindi loro in funzione del fatto che il pubblico italiano è per lo più di anziani ragionano malamente da anziani e quindi facciamo il segreto facciamo Barbara D'Urso no per carità non facciamo niente di nuovo io ho proposto dei progetti al di là dei miei monologhi a tematica gay proprio per poter portare la riflessione ma senza il solito dramma ragazzo picchiato sbattuto fuori di casa facciamo parlare di queste cose anche col sorriso ah no no perché così perdiamo il pubblico loro non e poi perché in America Will e Grace va da Dio me lo mandi in onda tutti i giorni alle 16 da 20 anni su Italia 1 che è il canale dei bambini peraltro e allora non sanno manco loro che cazzo allora il problema è vogliamo stare nel nostro nido ben collaudato vogliamo stare sempre belli tranquilli di guadagnare il nostro non ci interessa fare rivoluzione non ci interessa fare innovazione e vabbè e infatti la tv italiana sta perdendo poi tu gli dici ma no ma guarda che questa roba qua potrebbe interessare anche i giovani no i giovani la tv italiana non la guardano più ah faccio il cazzo che non la guardano più fai delle cagate poi se fai X Factor dopo 20.000 stagioni comunque se fai X Factor ancora lo guardano quindi i giovani vedi non sono tutti cretini che guardano solo il web se fai delle cose che interessano i giovani si connettono guardano ma è ovvio che se mi fai uomini e donne da 150 anni che palle i giovani giustamente fanno altro sono molto d'accordo io infatti proprio a causa di questo adesso vedo la tv come un bellissimo soprammobile con il quale attacco Netflix esatto uno schermo del telefono più grande per me adesso la tv è Netflix e ti dirò di più mi hanno tolto il gusto di guardarmi la tv perché ogni volta che guardo la tv noi chiamiamola normale la tv di stato mi sale una carogna cioè io vedo che ne so Enrico Papi che presenta un programma anche carino ad ogni battuta che non gli riesce mi si gonfia l'avena mi viene un nervoso che dico potrei starci benissimo io lì cioè guarda anche solo a livello di presentatori italiani chi c'è di giovane? giusto Cattelan che però lavora in Sky sono tutti vecchi per carità Bonolis io lo manderei avanti a vita perché è un genio però non danno spazio ai giovani non c'è voglia di fare rivoluzione non c'è voglia di fare innovazione e soprattutto la tv italiana di quello come allo stato italiano forse è un riflesso dello stato italiano di quello che hanno da dire i giovani non gliene ha fottuto un cazzo a nessuno tanto è vero che se ne vanno tutti dall'Italia cioè qua il problema si sta ingigantendo però questa è una diretta riflessione alla fine la tv riflette la società secondo te tra quando noi giovani faccio così dai noi giovani saremo vecchi cambierà la tv cioè noi riporteremo avanti questa mentalità allora secondo me secondo me se ci armiamo di lanciafiamme e andiamo negli studi televisivi a dar fuoco a tutto magari c'è buona possibilità di cambiare le cose non lo so il rischio che poi si erediti questa modalità di pensiero anche perché immagino io sono il produttore di quel canale la penso in x modo dopo quando sarò troppo vecchio per andare avanti comunque formerò gente che vada avanti che porti avanti il mio pensiero l'unica speranza è che man mano che si vada avanti visto che la maggior parte del pubblico italiano è di anziani questi anziani a un certo punto amore mio dovranno fare anche il loro corso e spariranno da questo pianeta e quindi a quel punto la tv italiana si renderà conto che è rimasta a secco o si come si dice in Ligure da dove provengo io o si desbelinano e si danno a fare e fanno qualcosa si svegliano fuori esatto significa o si svegliano e si danno da fare a fare qualcosa di fresco nuovo e innovativo oppure le tv italiane chiuderanno cioè non esisteranno più le reti italiane quando non ci saranno più gli anziani se non si sbrigano a fare qualcosa chi avrà interesse a chiedere la pubblicità del proprio marchio del proprio prodotto su una tv che non è più guardata da nessuno questa sarà la morte della tv speriamo così tanto si creerà un'altra tv e ci sarà un altro modo di fare intrattenimento verissimo però ora bisogna fare i calcoli di quanto ci vorrà far finire questa generazione secondo me ancora una cinquantina d'anni quindi poi diventerò vecchio anch'io perché poi il problema come dice è un po' fissato con questa cosa dell'essere vecchio no tra 50 anni diventerò vecchio anch'io la matematica lì è obiettivo vecchio però affascinante ma sicuramente sarò un gran bel vecchio parlando di giovani un giovane che vuole fare il comico ok quali consigli gli daresti per iniziare e riuscire ad emergere allora intanto se sapessi che consigli dargli li avrei seguiti io sarei già da qualche altra parte però al di là di questo col senno di poi sapendo quali sono stati per esempio i miei errori gli direi come ho già detto prima intanto parti avendo tutti i canali che portano a te aperti che siano i social che sia qualunque altra cosa ma intanto imbastisci un discorso dopodiché come essere un comico bravo appunto cerca di avere un punto di vista che nessun altro mai ha avuto che nessun altro mai ha raccontato queste sono le due regole basi per poter fare un buon lavoro poi sicuramente una terza regola trasferisciti a Milano cerca di entrare nel giro di quelli che lavorano in tv e se riesce ad andare a letto con qualcuno di loro tanto di cappello hai già fatto un buon lavoro sei già a metà dell'opera no questo a parte gli scherzi non voglio dire che vadano avanti solo i raccomandati che vanno a letto con quelli che fanno tv vanno avanti solo quelli che conoscono quelli che fanno tv o hai dietro alle spalle una produzione della Madonna insomma bisogna il contadinotto che fino a ieri ad estravacani eccetera è molto difficile che possa fare strada se alle spalle non c'è del lavoro e delle conoscenze quindi non è un lavoro così casuale sicuramente non basta solo essere bravi quando si è giovani più giovani di me si ha una particolarità dell'età ossia il delirio ed onnipotenza studi psicologici lo dicono chiaramente c'è un'età in cui ti senti invincibile ma io mi sento un po' di io effettivamente ma infatti dalla barba sembri e quindi ti senti di poter fare laddove gli altri non riescono quando si ragiona così bisogna capire invece che ci vuole molto più studio molta più umiltà perché gente brava è in giro per tutto il mondo non basta essere bravi ci sarà sempre chi è più bravo di te devi essere originale devi saperti muovere bene il lavoro di public relation che è una roba che io odio motivo per cui ho fatto anche poca strada è uno dei paradigmi più importanti da tenere a mente devi fare public relation se devi andare nel giro entrare nel giro andare alla festa mi trasferisco a Milano inizio a fare Movida perché poi da cosa nasce cosa conosco Tizio che lavora lì gli sto simpatico ecco chi è riuscito a fare questo è andato un po' più avanti di me io che sono un po' più col come si dice col pepe al culo non mi confondo non ho bisogno di fare queste cose per arrivare perché sono bravo ecco no bravo sti cazzi ci sono tanti altri bravi quanto te poi oddio tanti bravi che parlano di tematiche gay in realtà siamo solo in due il mio diretto concorrente però sta facendo molte più cose di me chi è? è Daniele Gattano non lo vuoi invitare? non lo conosco non ti firmo la privacy non lo conosco non lo conosco ah non lo conosci molto bene no niente un salutone anche a Daniele un salutone a Daniele Gattano abbiamo fatto anche delle serate insieme eccetera però per esempio Daniele Gattano è un comico che sta facendo della strada lo si può vedere un po' più spesso in qualche programma televisivo per ultimo mi sembra battute sulla Rai eccetera ma sicuramente è un ragazzo che oltre che essere bravo ha saputo muoversi ha saputo dosarsi probabilmente ha saputo anche intrattenere conoscenze o rapporti idonei per potersi muovere in questo mondo madonna come lo stavo per pestare una merda mi sono salvato in corner questa cosa che dici io l'ho notata un sacco anche nel mio ambito quindi il videomaking io studio regia a Milano e io la cosa che ho apprezzato di più dello stare a Milano non è stata l'università non è stato quello che ho imparato che sicuramente ha un valore ok ma è stato il conoscere gente a Milano certo cioè io potevo imparare quello che ho imparto dall'università tranquillamente a casa con i manuali certo tranquillamente però quello che ti dà la città in questo caso Milano sicuramente può essere anche rapportato ad altri posti in base al lavoro che vuoi fare è fortissimo cioè una persona diventa effettivamente poi brava nel settore se conosce le persone certo ma guarda ti faccio l'esempio in piccolo dove sono riuscito invece ad avere un po' la meglio è in teatro io fino a prima del covid ero in teatro stavo per iniziare una tournée con Claudio Insegno che è il fratello di Pino Insegno che si occupa di teatro lui è un regista e attore e come è successo io e lui ci siamo conosciuti ad una serata in cui facevamo da giuria per un talent così amatoriale fatto da un locale il fatto che io sia andato gratuitamente a quella serata perché non so mica è stato pagato eccetera mi ha permesso banalmente di conoscere Claudio Insegno che poi quando ci si è stretti la mano lui ha detto a me ma io ti conosco e io invece non volevo rompere i coglioni non gli ho chiesto neanche l'autore non ci ho chiesto niente ma io ti conosco ma sentiamoci parliamo e poi sono arrivato a fare uno spettacolo in teatro con lui con un ruolo tra l'altro che mi ha messo molto in risalto cosa che diversamente avrei dovuto affrontare un casting insieme ad altri mille che probabilmente erano anche più qualificati di me e quindi non sarei neanche riuscito ad arrivarci il fatto di fare la conoscenza giusta ti permette di e quindi non è una cosa da sottovalutare il public relation c'è un sito che non mi ricordo assolutamente come si chiama però c'è un sito che ti permette di arrivare alla persona che ti interessa tramite i tuoi contatti cioè tu puoi mettere chi sei tu a chi vuoi arrivare e questo sito ti crea tutte le ramificazioni di persone non ci posso credere è una roba quindi ipotizziamo io voglio arrivare a Barbara D'Urso ok magari tu hai conosciuto Daniele Gattano ok di cui ho un numero amico dello stilista di un'amica di Barbara D'Urso e alla fine arrivi a Barbara D'Urso in qualche modo cioè quest'app fa tutto in automatico voglio sapere il nome dopo lo cerchiamo perché magari mi rimetto in gioco allora è una cosa incredibile che sottolinea il fatto che più persone conosci più è facile poi contattare tutti perché poi il mondo è davvero piccolo cioè non sembra ma è davvero piccolo e tra l'altro mi stai dando un buon motivo per non cancellare mai nessun numero dalla rubrica vedi io questa cosa l'ho imparata da poco tempo cioè io adesso ho il numero di Frank Matano il numero di Claudio Bisio mi veniva voglia di cancellarli perché dico tanto non ci diciamo neanche ciao invece vedi che io ero uno di quelli che ah questo mi ha fatto un torto blocca cancella distruggi però no no blocca sì ma poi deve rimanere ok e poi a Natale li sblocchi tutti per pietà sì 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 Mirko io ti ringrazio tantissimo per essere venuto qua da noi ti auguro tutto il meglio speriamo di vederci magari a un tuo spettacolo a un tuo live perché no adesso in estate farò tre date perché il coronavirus non ci permette di fare grandi cose per cui sarò in provincia di Padova poi sarò in Liguria e poi sarò aiuto non ho il mio segretario che mi tiene tutto sotto controllo ma nel caso lo scriviamo qua nella descrizione tutte le date sì poi scriviamo tutte le date che sono tre facciamo i fighi qua tutte le date poi mi diverto sul web adesso lo faccio per divertimento top grazie grazie Mirko ci vediamo presto ciao grazie a voi grazie a voi